Oggi i pescatori della marineria Sipontina, rappresentati da Federco Pesca e Federpesca, incontrano a Roma il ministro Giancarlo Galan. Sono in sciopero ad oltranza perché chiedono la risoluzione immediata della vicenda della pesca del Bianchetto, colonna portante dell'economia sipontina. Nell'appuntamento settimanale di Quo Vadis, Nunzio Stoppiello di Federco Pesca ha lamentato gli eccessivi ritardi nella presentazione dei piani della pesca del Bianchetto e del Rossetto in Commissione europea. Purtroppo questi piani sono stati presentati a Bruxelles con un certo ritardo perché non si riusciva a capire se c'era la volontà di proseguire rispetto a queste attività. Bruxelles per dare delle risposte ha bisogno di una sua tempistica che ha bisogno di sei mesi. Siccome i piani sono stati presentati a fine dicembre... L'arco temporale di presentazione invece qual era? Si potevano presentare? Doveva essere presentato entro maggio. L'allargamento delle maglie e delle reti voluto dall'Unione europea ha provocato un danno enorme ai pescatori di Capitanata, zona in cui si pesca soprattutto Bianchetto, cioè nove lame di sardina, un pesce di piccole dimensioni che quindi può sfuggire facilmente dalle nuove maglie. L'incontro con Galan sarà determinante.